Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Sono passati gli anni, ma tutti ricordiamo una delle voci più belle di Amici, guarda come è cambiata Karima Ammar. Il talent show più amato d'Italia e Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, la regina di Canale 5. Fin dalla prima edizione, chiamata Saranno Famosi, il format ha attirato l'attenzione di milioni di telespettatori e si è presentato, per i giovani talenti, come un'occasione per fare capolino nel mondo dello spettacolo. Di anno in anno, sono molti i talenti che hanno seduto a quei banchi. Tanti nomi sono caduti nel dimenticatoio, ma tanti altri si sono impressi nel panorama della musica e della danza, ricavando un posticino nei nostri cuori. Tra questi, c'è quello di Karima Ammar, la giovane che ha partecipato alla sesta edizione di Amici e che ha travolto tutti con la potenza della sua voce. Sono trascorsi 17 anni dalla sua partecipazione al programma e, da qualche tempo, non vediamo più Karima in TV. Qualcuno, però, si sta chiedendo che fine abbia fatto. La ragazza, diventata ormai una donna, procede a gonfie vele con la sua carriera, ma il suo aspetto è completamente diverso Scopriamo come è diventata Karima oggi.Prima ancora di partecipare ad Amici, Karima aveva preso parte a Bravo Bravissimo, condotto da Mike Buongiorno. Era il lontano 1997 e lei aveva solo 12 anni, ma la sua passione per la musica le scorreva già nelle vene. Dopo Amici, invece, nel 2009, partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria Proposte, classificandosi terza, dopo Arisa e Malika Ayam. Le sue canzoni iniziano a farsi spazio nel panorama discografico e Karima conquista la sua fetta di pubblico. Oggi, la donna è anche una mamma, che continua a vivere di musica e di amore. Ciò che è cambiato, però, è il suo aspetto fisico. Chi ha seguito Amici, durante la sesta edizione, potrà ricordare Karima come una ragazza acqua e sapone, dal sorriso smagliante, capelli lunghi e il classico look della ragazza della porta accanto. Dopo 17 anni, invece, la ritroviamo completamente diversa. Le foto sui social hanno lasciato a bocca aperta i suoi vecchi fan. Karima, oggi, si mostra totalmente diversa nelle sue foto su social. Un look più aggressivo e definito, che la contraddistingue tra la folla Capelli corti, un taglio sbarazzino ma deciso, che incornice il suo viso. Con un post su Instagram, nel quale si vede abbracciata insieme al cantante Mario Biondi, Karima sfoggia un sorriso a 36 denti, parlando della cosa che più ama nella vita, dopo sua figlia Frida, la musica. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. A presto. ,…